Allora io voglio dire una cosa, l'Italia nel periodo che va da marzo a settembre ha un clima bellissimo, abbiamo un sole incredibile, abbiamo un vento incredibile, quindi se a quanti siamo qui e quelli che stanno là fuori buttassimo un seme di marijuana, lascerebbe tanta erba e si potrebbe legalizzare, perché è inutile, qui i cannoni ce li facciamo tutti. Il gol man, senti molto la parola che te la dice, perché l'eroina è negativa, o no, è negativa l'eroina, leo cavallo non è eroina, senza i sali non è eroina, allora, non li sa fare, non li sa fare nel buco che ti può fregare, Non li sa fare, non li sa fare, non li sa fare nel buco che ti può fregare. E se poti scassi in alca, non pensare a qualche tono, non si ferma, e se scassi in alca, non si ferma. E se scassi in alca, non si ferma. E se scassi in alca, non li sa fare nel buco che ti può fregare. Non li sa fare, non li sa fare nel buco che ti può fregare. Amo la sensimiglia, o mia dolce marijuana. Amo la sensimiglia, o mia dolce marijuana. Prendi la, rolla la, nella rizza, necilum, necilum, nella rizza. Amo la Maria, dico, è la sensimiglia. Legalizzare e basta, Willy si è detto. Willy! Legalizzare, poche chiacchiere, poco cantare, legalizzare e basta. Subito. Legalizzare. Troppi ragazzi sono morti in carcere per due grammi di fumo, bastardi. ...